Due tunisini sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Marsala in provincia di Trapani con l'accusa di essere degli scafisti dediti al traffico di migranti e al contrabbando di sigarette. Il provvedimento di fermo è stato emanato dalla Procura della Repubblica di Marsala all'esito di indagini scaturite da uno sbarco di immigrati intercettato lo scorso febbraio sulle coste di Capo Granitola. A sbarco appena avvenuto erano stati fermati otto immigrati, mentre cercavano di nascondersi sulla spiaggia dove aveva traccato il gommone, a bordo del quale erano stati rinvenuti ben 320 kg di sigarette di contrabbando. I successivi sviluppi investigativi hanno consentito di ricostruire le modalità del viaggio, circa sette ore per attraversare il canale di Sicilia, dalle coste tunisine per approdare su quelle siciliane. ammassati a bordo di un gommone equipaggiato con due motori potentissimi sotto la costante minaccia di armi e violenza da parte degli organizzatori. Sulla base degli elementi così acquisiti è stato quindi possibile individuare i due presunti scafisti che sono stati poi condotti in carcere.